ecco come creare la decorazione a forma di pattino di sofia con il tuo bambino avrai bisogno di filtro colorato un pennarello delle forbici ago e filo un nastro una graffetta colla caldo e una protezione per le dita e ricorda che tutti i passaggi in cui si usa la colla a caldo e la protezione per le dita devono essere fatti da un adulto prima di tutto prendi un foglio di filtro color crema e piegalo a metà posiziona una graffetta grande sotto la piega e usalo come riferimento per disegnare la forma dello stivale con il pennarello poi con un paio di forbici ritaglialo quindi prendi il filtro viola e posiziona il filtro color crema sul bordo ricaica il bordo con il pennarello quindi ritaglia la gamba dello stivale e metti da parte questo pezzo per dopo adesso prendi il pezzo color crema aprilo e attacca la graffetta lungo la piega indossa la protezione per le dita e con cura passa la colla a caldo lungo il bordo dello stivale ripiegalo e facendo attenzione incolla le due parti prendi un pezzo di nastro e facendo attenzione aggiungi un po di colla sull'angolo in alto dello stivale e attacca il pezzetto di nastro quindi aggiungi ancora un po di colla sull'estremità del nastro e incolla l'altra estremità creando un gancio ora metti la colla sulla prima metà dello stivale color crema e attacca la parte viola prendi l'ago e filo e con cura cuci sullo stivale i lacci quando avrai creato abbastanza lacci taglia il filo rimanente ecco come creare una decorazione a forma di pattino di sofia tocca lo schermo per vedere altri video e segui disney junior per i tuoi programmi preferiti